Benvenuti, membri e colleghi, alla Assemblea Generale dell'EGU. l'EGU è l'organizzazione principale dell'Europa per l'esercizio dell'Earth, planetà e dell'esercizio dell'esercizio. Abbiamo avuto circa 20.000 membri di Europa e in molte altre regioni. La maggior partecipazione di un contributo alla Generale dell'Assemblea. La nostra visione è realizzare un futuro sostenibile e giusto per l'esercizio e l'esercizio dell'esercizio 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 dell'esercizio. Assozi, l'esercizio dell'esercizio 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 dell' Moving 18,000 abstracts into this virtual format in a very short period of time has been a huge and challenging project. We have made considerable effort to assure us move with, but we ask for your patience if you face technical difficulties. We hope that Showing Geoscience Online will be a great opportunity for Earth, Planetary and Space scientists to share their research and set up our continued collaborations. Showing Geoscience Online offers free online access to and discussion of 18,000 abstracts in ways that promote equal accessibility and inclusivity for all attendees. It's an exciting opportunity for us all to test new virtual models of scientific interacting that could help reduce the environmental impact of scientific conferences. There will always be a need to meet in person, but we hope that our experiences with virtual ways of sharing ideas will help set the basis for accessible and green conferences of the future. We wish you a great week of sharing Geoscience Online.